Un ampio dossier di 15 pagine su come cambia il paese sotto la mossa del coronavirus, le possibili difese, le scuole che insegnano a distanza, i problemi per anziani e poveri, l'azienda albese che produce le mascherine, le restrizioni nelle principali industrie e le iniziative della Chiesa per la Quaresima a casa, ma ovunque c'è voglia di ripartire. È nata Radici, la fondazione per custodire le memorie del territorio della Malora patrimonio unesco. A Paroldo in Langa si lavora all'Ecomuseo della Pecora. Tra Sommariva e Pocapaglia saranno i trifolau a gestire a 14.000 metri quadri di boschi. Aumenta l'export di vino, ma si discute sul rinvio di Vinitaly. Queste e tante altre notizie su Gazzetta d'Alba in edicole online dal martedì.